Ecco qui Mr. Helmet Stand Nolan Group, presento un casco eccezionale che viene presentato in questo momento proprio oggi in contemporanea a Valencia, la presentazione ufficiale, io ho qui un altro prototipo, è un X802 in questa borsa carbon MotoGP replica, è un casco speciale realizzato da Nolan Group X-Lite in collaborazione con Adorna in tiratura limitata, ce ne sono solo 99 ed è un casco molto particolare, adesso vi spieghiamo il perché delle particolarità, è innanzitutto una versione carbon, l'abbiamo presentata anche nell'altra clip, la versione carbon è nella versione Carlos Ceca, nella versione puro, ossia full carbon, questa è la versione MotoGP realizzata in esclusiva in collaborazione con Adorna, è disponibile solo sul sito della MotoGP e le particolarità di questo casco innanzitutto sono le prese d'aria rosse, il bordo rosso, è un casco assolutamente in edizione pilota con gli interni particolari dedicati, dotati ai piloti, ha la visiera piana più un'altra visiera omaggio in versione green, è già predisposto con due tiroff e ha tutti quegli elementi che contraddistinguono un casco racing, ossia una guarnizione particolare dedicata dai piloti, i guanciali dedicati e in più, vedete il numero della tiratura limitata, questa è una delle versioni, è la versione 0, è assemblato manualmente dai due esperti dal reparto corse Nolan che sono Oberdan Tomasoni e Enrico Crippa, sono gli stessi ragazzi che assistono i piloti in MotoGP e in Superbike per tutta la stagione che assemblano i loro caschi per loro, particolari le prese d'aria, particolari le guarnizioni, particolare la visiera, è assolutamente un casco al 100% made in Italy, fornito in una sacca molto particolare, questa cover qui e poi la borsa dedicata al cui interno alloggia anche la visiera, non c'è, non è in vendita nei negozi, nei canali tradizionali, dicevo prima è in vendita solo sul sito della MotoGP, il sito della Dorna, 99 ne sono stati fatti e costa 999 euro per un casco assolutamente unico prodotto ufficialmente con la MotoGP, qui vedete i loghi che non potete trovare da nessun'altra parte e mai più se vi sfuggono questi 99 esemplari, ciao da Mr. Helmet!